Divorzio Totti Blasi, cielo zampino di Fabrizio Corona Il divorzio tra Francesco Totti e Ilari Blasi è sempre più al centro dell'attenzione mediatica. La vicenda si arricchisce di nuovi sviluppi con l'ingresso in scena di Fabrizio Corona, chiamato dalla stessa Ilari per influenzare il processo di separazione. La tensione cresce in vista dell'udienza prevista per il 31 maggio 2024, dove potrebbero emergere nuove rivelazioni e testimoni a sorpresa. Recentemente, il settimanale IGENTE ha rivelato che Totti potrebbe presentare prove di un secondo tradimento di Ilari, oltre alla già nota relazione con un personal trainer. Questo nuovo testimone, che potrebbe essere svelato a fine maggio, si aggiunge alle complicazioni del caso. Da parte sua, Fabrizio Corona ha confermato di essere stato contattato da Ilari, che vede in lui l'unico in grado di salvarla nella battaglia legale. Corona, noto per il suo passato controverso e le sue connessioni nel mondo dello spettacolo, sostiene di possedere foto che potrebbero mettere in difficoltà Francesco Totti, aprendo interrogativi su chi tra i due coniugi abbia tradito per primo. Il ruolo di Corona potrebbe essere cruciale, non solo per la dinamica tra i due ex coniugi, ma anche per l'esito della divisione del loro ingente patrimonio. Mentre il processo si avvicina, entrambi i campi si preparano a una battaglia legale che promette scintille e rivelazioni. La comunità e i fan della coppia sono in attesa di vedere come si evolverà una delle separazioni più seguite, degli ultimi tempi in Italia. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie Grazie